Lega Ambiente ha messo a punto un dossier per contestare il progetto Ombrina Mare. Monia Baldascino. Petrolio di pessima qualità, pesante e acido perché ad alto contenuto di zolfo. Petrolio presente in quantità irrisoria, sufficiente a coprire appena allo 0,2% del consumo annuale nazionale. Non c'è un tesoro nero da scoprire sotto i fondali abruzzesi, secondo Lega Ambiente, che definisce Ombrina Mare un'operazione insensata, certo insufficiente, spiega il presidente regionale Angelo Di Matteo, a ridurre la dipendenza dall'estero e ad abbassare la bolletta energetica. Dunque il gioco vale la candela? Lega Ambiente ha approfondito il tema del ritorno economico come royalties, che ha calcolato per la regione Abruzzo, su valori medi e sulla base dei prezzi 2012, in circa 700 mila euro l'anno. Mezza tazzina di caffè per ogni cittadino abruzzese, chiosa l'associazione ambientalista. E il gas? La quantità estratta raggiungerebbe appena allo 0,001% del consumo nazionale. Da qui non arriveranno royalties, continua il ragionamento di Matteo. I primi 80 milioni di metri cubi all'anno sono esenti e la produzione sarebbe inferiore. Operazione insensata e poco chiara, insiste Lega Ambiente, che si sofferma sull'Itar di rilascio delle autorizzazioni e focalizza un passaggio su tutti. Il 7 ottobre del 2010 la Commissione nazionale di verifica dell'impatto ambientale boccia la richiesta della Medoil Gas, ma il fascicolo non viene chiuso. Dall'ottobre del 2010 il Ministero ha avuto 19 mesi per chiudere la procedura. Questo non l'ha fatto, ha aspettato che cambiassero le norme e ha riabilitato un brinamare. Questo è alquanto scorretto e soprattutto non trova alcuna attuazione nella normativa italiana.